I soldi li troviamo, i soldi li troviamo, un miliardo di euro costa Montecitorio, li troviamo togliando i rimborsi elettorali a tutti i partiti immediatamente come abbiamo detto, noi non li abbiamo presi, 42 milioni e quando Bersani voleva fare il soggettato al movimento, io ne ho detto bene, cominciamo a fare una cosa insieme, dai indietro 48 milioni di euro se ti sei preso, tutta questa gente e di nuovo lecca il nipote di suo zio che fa il nipote di suo zio da 30 anni, ha detto basta i rimborsi, abbiamo risolti i rimborsi elettorali con un tweet, adesso scoprono la rete, il tweet, con un tweet, il tweet, ha detto abbiamo risolti di rimborsi elettorali, 92 milioni se li sono presi a luglio, non si sono diminuiti di nulla.